Musica Fortitudo Pomezia e Fiumicino avversarie ma unite nel minuto di raccoglimento dedicato a Fabrizio Ferranti, fratello del presidente Pometino Roberto, prematuramente scomparso in settimana. Dopo un lungo applauso inizia il match. Ad aprire le danze però la Fortitudo con il solito Proia al secondo minuto e subito la sua corsa ad abbracciare il presidente Ferranti. Simone Proia si ripete al sesto, il suo guizio ormai una specialità, la chicca e il gol firmato con il destro che porta subito sul 2-0 la Fortitudo. Che sembra avere una marcia in più, altre ottime occasioni, la prima per Zullo sotto rete, poi nuovamente con Proia. Il 3-0 arriva però al ventunesimo con il tocco prezioso di Desimoni, servito da caro tenuto. Prova a reagire il Fiumicino, ottimo lavoro di Cianchetti che poi avanza e cerca la potenza. Trova invece la gran parata di Filippini, poco dopo a provarci l'eterno Lattanzi. Ancora una volta il portiere Pometino chiude la Sara Cinesca. Inizia poi la partita nella partita di Daniele Zullo che le tenta tutte per andare in gol ma si ritrova davanti un San Giovanni in grande spolvero. Prima della pausa allora si accontenta, si fa per dire, del grande assist per Bernardini che supera il portiere e porta i suoi al riposo sul 4-0. Poco altro da perdere per il Fiumicino che allora manda avanti stabilmente il portiere. La scelta paga perché in avvio arriva l'autorete di Desimoni, probabile frutto della pressione. Non ci sta Desimoni che vuole rifarsi a modo suo mettendo il turbo ed andando vicinissimo alla rete che avrebbe rimesso le cose a posto. Di occasioni a porta sguarnita ce ne sono comunque molte e quasi ci riesce Golemi da polo a polo. Ad occuparsene in seguito è Andrea Lippodis che prima va a guadagnare l'out e poi con il suo mancino che tutto può va a segnare il quinto gol. Non è finita grazie all'orgoglio del Fiumicino, palla rubata da Cianchetti e poi il gol. Dopo lo scambio con Conti, qualche problemino nello scontro con Golemi ma gli ospiti non possono perdere tempo. Minuto 21, irregolarità di Bernardini su Conti, l'arbitro fischia e Cabras dal dischetto trasforma. Momento propizio per gli ospiti che ci credono e giungono all'episodio chiave. Cianchetti tira a porta sguarnita, la palla tocca la traversa e forse entra, forse no. Per l'arbitro comunque non è Gole dopo le proteste del Fiumicino e Lippodis con la casacca da portiere di movimento a spegnere le rasidue e speranze degli ospiti. Dopo il grande sforzo il Fiumicino getta la spugna, arrivano così altre reti, quella di Rozzi con un missile terrificante che vale il 7-3. La va a chiudere definitivamente Proia approfittando di un passaggio errato dell'avversario. Prima del fischio Zullo, molto nervoso, prende un cartellino rosso probabilmente evitabile. E l'ultimo atto del match finisce 8-3 fra Fortitudo e Fiumicino.